Grazie. Io vi ringrazio tanto per questo applauso caloroso, ma io vi giuro che pure quando cantai con San Carlo, nel 1939, non dormai come sto dormando in stasera. Grazie. È perché mi hanno invitato come ospite d'onore, quindi hanno detto tu non canta, io devo solo declamare due poesie mie che scrissi 50 anni fa. Comunque, se non canto bene la colpa è sua, perché io non canto da anni. Grazie. 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 Grazie.